Musica Bella a tutti ragazzi sono Shark e sono qui oggi con questo nuovissimo video Ragazzi il mio clan recluta, il mio clan arruola Quindi chi volesse entrare, questo è il nostro forum, ragazzi ve lo linko in descrizione Quindi ragazzi chi vuole entrare nel nostro clan diciamo su Ghost Sto facendo questo video e adesso vi spiego tutto Allora questo è il nostro forum, si ve lo lascio in descrizione come vi ho già detto E niente allora il modulo di arruolamento ce l'avete qui, sarà in alto a sinistra E niente allora qua vi spiego un po' di cose Allora vi dico subito i requisiti minimi che diciamo cerchiamo Il ratio deve essere più di 1,15 E avere almeno 20 vittorie su Cerca e Distruggi Veterano Online ovviamente Si vedono tramite la caserma, si ma non c'è ancora la caserma per Cerca e Distruggi Ma comunque vedremo in seguito L'età minima in 16 anni, anche 15 come in questo caso io ho 15 anni però vabbè Sono dal clan già da 2 anni quindi non fateci caso a me E quindi si dai 15 anni in su però non deve essere bimbo minchia Cioè già ci sono capite da tante persone che avevano 15 anni, 16 anni erano dei bimbi merda del cazzo Quindi ecco Adesso il modulo, allora il nome vabbè il vostro vero nome, che cazzo è cambia? L'età, la vostra età vera, la provenienza, la città, gli interessi, cioè oltre COD Gli studi, diciamo che scuola fate, oppure se lavorate, che lavoro fate Un contatto Facebook o Skype, l'IDBSN, il livello del prestito to ghost Se frequenterete il forum, c'è questo qui nostro Se avete l'auricolare, preferibilmente cerchiamo persone che hanno l'auricolare Ma anche se non l'avete, diciamo che non fa niente Diciamo la fascia di area da che ora a che ora giocate circa Poi se gioca tutto il tempo, cioè va benissimo Se avete tentato di iscrivervi ad altri clan O se siete stati già in altri clan, lo dovete scrivere Come ci hai conosciuto, qua ovviamente scriverete che Avete conosciuto il clan tramite il video di TheShark su Youtube La vostra classe preferita, su Ghost, ovviamente le armi, tutte le cose, le classi, vabbè Se avete un secondo account, cioè se questo è un secondo account che state usando Quante clan war avete giocato anche al di fuori di Ghost Perché ovviamente qua non avrete fatto nessuna non war Ancora, ma che è? Beh, quindi ci parla di BO2, MO3, queste cose qui Cosa ti ha spinto a entrare nel clan? Questo, boh, dovete spiegare un motivo E se siete iscritti a Call of Duty Elite E se avete retto il regolamento Qui andate a cliccare sul regolamento e ve lo apre Ecco, qua ve lo leggete con tutta calma E poi dite se l'avete letto E vabbè Poi vabbè, lo andrete a leggere voi adesso non ve lo leggo E niente ragazzi, questo diciamo erano i requisiti Abbiamo anche un canale Youtube, ecco che è questo qui Se volete iscrivetevi e io vi lascio sempre il link in descrizione Questi erano video che abbiamo messo su BO2 Un po' vecchi diciamo E siamo un po' inattivi adesso solo sul canale Ma ovviamente ritorneremo a caricare video molto più, diciamo, belli Perché questi erano ninja dei fusi, queste cose qui Comunque ritorneremo adesso con dei video molto più, diciamo, particolari Cioè molto più belli Cioè quindi ci riattiveremo il canale Io intanto sto arrivando a 1000 iscritti Quindi perfetto Spero che ragazzi in molti veniate a arruolare Quindi i requisiti li sapete E niente Quindi ragazzi io vi invito a arruolarvi A iscrivervi al canale di Youtube Ve lo lascio sempre in descrizione Questi sono i membri Questo diciamo è il forum E niente ragazzi Io spero che Ve l'ho già detto Spero che vi arruolate e niente Lasciate un like Un commento Se vi arruolerete o no E niente bello